Scrivere il programma insieme ai cittadini. La proposta arriva dal Partito Repubblicano Italiano che questa mattina a Ragusa ha tenuto una conferenza stampa per presentare alcune proposte in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno sia a Ragusa ma anche a Modica e Comiso. Il segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano Gino Calvo è stato chiaro. Bisogna avviare un percorso che coinvolga le persone per condividere le scelte future per la buona amministrazione dei comuni. L'alto tasso di estensionismo più del 50% alle ultime regionali è il segnale che i partiti hanno fallito così come il Movimento 5 Stelle che non riesce ad andare oltre la sterile protesta. Dinanzi al rischio della bancarotta in Sicilia, al dissesto che ha già colpito Comiso, ha proseguito Calvo, è necessario costruire politiche di buon governo al di là degli schieramenti di destra e sinistra. Vogliamo scrivere i programmi che caratterizzano le scelte degli enti locali amministrati dai cittadini. Quindi dinanzi alla antipolitica, dinanzi alla incapacità del Movimento di Grillo di creare le condizioni per dare risposte perché con 15 deputati si potrebbero fare tante cose e loro non fanno niente perché obbediscono a quelli che sono gli schieramenti voluti dal Grillo e da Casaleggio. Evidentemente tradendo la voglia di riscatto del popolo siciliano noi vogliamo iniziare un percorso condiviso, un percorso di scrittura comune dei programmi delle città. Vogliamo che il programma sia al centro della volontà e dell'attenzione dei cittadini siciliani, dei cittadini delle varie realtà amministrate, Comiso, Ragusa, Modica, Racate ma anche altri comuni per fare percorsi dove siano loro a scegliere non solo da chi farsi amministrare ma come può l'ente locale rispondere ai bisogni e alle aspettative delle cittadini amministrate. Durante la conferenza il segretario regionale Calvo ha lanciato un'idea per la riforma delle province. Per Calvo bisogna creare un grande distretto che comprenda oltre Ragusa, anche Siracusa, Enna e Catania. La sinergia fra questi territori del sud-est siciliano consentirebbe infatti un rilancio dell'economia e dello sviluppo perché ha spiegato Calvo si tratta delle province con il più alto PIL dell'isola e in questo modo si verrebbe a creare un grosso polo per quanto riguarda gli aeroporti con Catania e Comiso, i porti con Pozzallo, Marina di Ragusa, Augusta e Catania, le università con Catania e Ragusa ed Enna ed infine il turismo con i siti UNESCO e del Barocco. Si voterà il prossimo anno anche per le province, si parla di accoppamenti, si parla della possibilità di creare le sinergie. Noi repubblicani, dinanzi alla vacanza della legge regionale che ancora oggi non chiarisce quali debbono essere i percorsi strutturati e istituzionali, lanciamo una grande idea alla politica e al territorio. Pensiamo non a province che siano la somma di amministrazioni, partiti, consiglieri e presidenti. Pensiamo a un percorso di condivisione di scelte economiche e produttive che vadano nell'ottica di un distretto così ampio, quello del sud-est, che possa dare risposte complessive ai grandi problemi dell'economia della provincia di Ragusa.